Amici di Android Blog, è LG G2 Mini che sta effettuando questo video. Andiamo subito a tentare un controluce, poi all'adattamento a luci più normali. Come di consueto proviamo a camminare per vedere quanto rimane stabile il video. Andiamo a fare una ripresa macro, aspettiamo l'adattamento al fuoco. Aspettiamo ancora. Ok, proviamo a farlo col tap. Non riesce ad adattare qui con un fuoco con una distanza così vicina. Spostiamoci. Riproviamo. Ok, adesso meglio. Spostiamoci di nuovo. Proviamo una carrellata verso destra e verso sinistra. Tentiamo uno zoom. Zoom possibile fino a 4x alla risoluzione massima. Questo video è girato in Full HD a 30 frame per secondo dalla fotocamera da 8 megapixel di LG G2 Mini.